Musica Ciao a tutti gli amici di Out of the Beat Anche per questa puntata ci siamo spostati allo Shabba di Cantu in provincia di Como dove il nostro ospite ha appena tenuto il suo live è qui con noi Nicola Stantini a.k.a. E Green E Motherfucking Green, bitch, you know what it is, right? Nasce a Bogotà nell'84 e per gli anni successivi vieni sballottato in tre continenti diversi ti avvicini all'hip hop all'età di 9 anni a Detroit che ricordi hai di questa esperienza particolare? Belle, abbastanza incontaminate, non conoscevo la masturbazione, l'alcol, le droghe e conoscevo solo quelle cose belle e candide pure insomma che conosci a quell'età quindi mi sono divertito, ho fatto delle belle esperienze sono belle Alla fine degli anni novanta c'è stato come un colpo di fulmine fra te e l'hip hop della scena italiana inizia a scavare nelle viscere del rap made in Italy da dove è arrivato tutto questo bisogno di saperne sempre di più? Diciamo fondamentalmente dal fatto che in quegli anni in primis nella provincia era molto difficile andare a trovare le cose e comunque anche a Milano che era molto vicina che ti posso dire? c'era sempre quella voglia di andare, come si suol dire no? di scavare, digging, di andare a capire, a vedere ah cazzo lui mi ha dato quella cassettina quello ha fatto il pezzo con quello ah cazzo ok allora poi c'è anche quello, quel featuring allora uno non finiva mai di scoprire gente nuova e ti veniva comunque lo stimolo di avere una visuale il più totale possibile si cercava di non fermarsi su una cosa ovviamente c'erano gli artisti di spicco io per esempio ho iniziato con gli articoli come tanta gente penso però sai senti la roba in una compilation c'è un altro pezzo e poi un altro pezzo ancora e poi è difficile spiegare un'attitudine o una cosa che ti viene una sorta di sentimento che ti arriva ascoltando le cose tu ai tempi non c'era il tubo, non c'era internet non c'erano neanche i cellulari quindi c'era proprio quel bisogno pazzesco di andare a capire e in realtà non si capiva niente però era una bomba quindi insomma quello mi ha portato a come molta gente della mia generazione andare a scavare e capire le mie cose da lì inizia la tua gavetta, inizia a organizzare serati hip hop nella tua provincia che ricordiamo appunto essere varese ovvero una città che per molti anni è stata considerata la patria dell'hip hop e del rap made in italy è stata dura per te arrivare al tuo livello? allora io ho un amico che si chiama hansi e lui ha fatto una rima dove dice che lui non ha fatto la gavetta ha fatto il vietnam perché lui ha fatto un sacco di gare e comunque io sono stato testimone personalmente di un sacco di gare che lui ha fatto io c'ero ai tetti rosa, al pink village di valter x alla famosa battaglia di hansi contro kiffa c'era next one in giuria insomma chi c'era si ricorda è vero insino ha fatto il vietnam e io nel mio piccolo ho fatto lo stesso e lo sto facendo tuttora perché comunque la risposta alla tua domanda è sì io arrivo da una città che è a 30 km da Milano dove le cose sono tre volte più difficili perché comunque Milano è stata una palestra incredibile perché a Milano ti guardano tutti così almeno ti guardavano ai tempi tutti così col cappuccio, il cappellino giù e guai ad alzare una mano in segno di supporto è stata una roba cruciale per me e gli ha aiutato molto perché comunque arrivare da fuori Milano ma essendo molto vicino è come stare in una sorta di limbo una sorta di purgatorio e questa cosa mi ha dato un sacco di stimoli io ho fatto non tante ma qualche gara l'ho fatta ai tempi poi ho deciso che il battle rap non era più cosa per me ma con le strofe, con i dischi, con i demo come cazzo vogliamo chiamarli per me sono progetti che ho portato a termine ho fatto quello che si può definire una sorta di gavetta e non è stata dura non è stata dura è stata ed è tuttora durissima chi più o meno può riconoscersi nelle cose che dico capisce quanto cazzo è una fottuta giungla ma nel vero senso della parola quindi sì la risposta quanto è stata dura è stata molto dura e lo è tuttora perché comunque non mi sento per niente arrivato almeno a dove io mi sono prefissato di arrivare non mi sento ancora per niente arrivato Green hai sempre studiato ti sei sempre messo in gioco per diventare il rapper i Green che adesso sta spaccando in Italia come la vedi sul fatto che ormai oggi come oggi non serve più farsi tutto questo culo per diventare qualcuno? ti dico il livello del rap italiano secondo me in questo momento è molto alto nel senso c'è un livello tecnico pazzesco ci sono ragazzini che spaccano il culo ovviamente il tutto deve includere molti fattori non c'è solo quello di essere bravo a reppare devi avere tutta una serie di cose nel messaggio che vuoi trasmettere specialmente adesso che c'è tantissima offerta e il livello è molto alto è molto difficile sapersi distinguere fra i tanti e quindi che ti devo dire frate è una roba l'attitudine conta molto visto che adesso il livello è molto alto e soprattutto devi saper trasmettere alle persone che tu hai qualcosa da dire quello è fondamentale ora il rap va il rap spacca e ne godo anch'io di questa cosa che non sono il più politically correct oppure nel senso chi ascolta le mie robe di primo acchitto potrebbe dire ma questo è un chicchetto in cui il rap italiano sta vivendo quello che credo il rap francese ha vissuto dieci anni fa quindi è solo una questione di cicli e di momenti però per ora secondo me va tutto alla grande è bella lì si è considerato da tutti un diverso nel rap italiano ciò che ti differenzia dagli altri è sicuramente la rabbia l'enfasi che metti nei tuoi pezzi la foga con cui fai i tuoi live e ovviamente la tua tecnica erano questi i risultati che volevi ottenere o pensi ancora che manca qualcosa all'e-green che hai nella tua testa bella domanda molto bella io voglio voglio far sì che un certo tipo di di attitudine sia consolidata in Italia e vorrei che chi arrivi dopo di me un giorno possa vivere di questo facendo quello che faccio io con la mia stessa testa non mi sento arrivato per niente penso che devo ancora fare delle cose e penso che io penso che manchi davvero un'affermazione di un underground di un certo tipo qua in Italia e io sto fondamentalmente sto davvero lavorando per questo nel senso cioè io devo io dovrei campare facendo quello che faccio senza spocchia senza arroganza ancora non è così e ci sono un sacco di persone come me e anche più grave che fanno quello che faccio io e che meriterebbero e quindi la mia risposta alla tua domanda è in effetti sia evidentemente manca qualcosa o forse no o forse manca solo un interruttore alle persone per fare capire che ci deve essere un mercato sia per quello che faccio io ma un mercato attivo e non passivo ovvero ci deve essere del cash flow anche per per quello che è davvero l'underground ovvero ci deve essere la possibilità che le persone che facciano un rap che non va in radio o in televisione vengano comunque retribuito in un determinato circuito in una certa maniera ancora questo non c'è o meglio c'è in piccolissime realtà ma a mio umilissimo e discutibile parere ci stiamo arrivando sempre collegato alla domanda di prima del periodo del rap in Italia secondo me è solo una questione di tempo io posso essere solo una pedina di questo oppure un protagonista non lo so sarà il tempo a dirlo però insomma senza arroganza non è forse quello che manca a me e a me manca perché io sono un insoddisfatto per antonomasia un frustrato un represso è che bisogna abituare la gente a certe cose bisogna continuare a battere questo cazzo di farlo finché caldo per far capire alle persone che c'è comunque un'alternativa a livello di binario di corsia per fare questa cosa ci vogliono le due cose insieme perché uno poi diventa il vivaio dell'altro l'underground dovrà per forza maturare a un livello tale per il quale sarà totalmente molto più di quanto lo è già tuttora un vivaio importante poi per la industria come viene definita tale al fine che poi vengano emessi nel mercato grosso certi prodotti quindi l'underground è fondamentale e non potete fare finta che l'underground non esista questo forse manca manca forse un'affermazione dell'underground in Italia come come proprio come genere e come identità ne sono insieme ad oggi vanti collaborazioni con artisti che sono considerate vere e proprie leggende viventi facci qualche nome bassi maestro per me è una fottuta leggenda di questa merda dj shock per me è una leggenda ho lavorato con marcio ho lavorato con vacca ho lavorato con 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 shablo don joto e rocce ho lavorato con fritz e cat che ti devo dire per quanto mi riguarda nell'underground italiano in gente che comunque ha la sua voce in capitolo ho fatto diverse cose e sono sicuramente le cose che mi hanno fatto salire di livello io voglio lavorare anche con fibra voglio lavorare con tutti con chi sta facendo questa merda ma perché alla fine me lo merito e sti cazzi cioè fa tutto parte di un percorso no tu mi dici di esempi io ti dico non sono ancora soddisfatto ma ho lavorato con davvero tanta gente quindi sono contento e sti cazzi perché no tutta la un sacco di gente pensa che io ce l'ho con gue con marra ma io un pezzo con gue lo farei al volo tranquillo marra tutti no però è tutta gente con la gente che io stimo artisticamente sì volentieri davanti a te c'è ancora tutta la carriera ma con chi speri di poter cantare un giorno uno è Noiz e uno è Fabri esatto basta nel 2011 ampli la tua notorietà con il pezzo soprano scontenuto in Torri e Rocce pezzo con cui collaboro insieme a Bassi Maestro e DJ Sciocca ovviamente prodotto da Shablo e Don Gio cos'hai provato quando hai saputo che avresti dovuto scrivere un pezzo per questo album ma guarda se dovessi raccontarti la storia ma guarda non diciamo che alla fine quando Bassi mi ha scritto una mail che era a New York sono sbiancato e e ho detto adesso che cazzo faccio e poi niente ho scritto quello che dovevo scrivere e l'ho fatto senza problemi come faccio di solito il 2012 sancisce la tua entrata nell'etichetta Unlimited Struggle Indie Records che responsabilità ti senti da avere adesso che fai parte di questa etichetta ma in primis quella di sapere che io rappresento la città che mi ha partorito che è Varese è una cosa importantissima io devo avere tutto nel senso che io mi sono caricato sulle spalle il peso di questa cosa e diciamo le mie più grosse fonti di ispirazione in momenti cruciali della mia vita artistica ovvero da quando sei pischello e poi e poi devi capire che devi fare delle cose cioè poi e poi ti fai le domande e dici ok adesso cosa faccio ok sono tutte queste domande me le sono poste sempre rapportandomi in primis agli esempi che avevo ricevuto da Varese e questo vuol dire che la prima responsabilità che io mi sento sulle spalle è quella di portare avanti una città che è una grandissima tradizione nel rap italiano e la seconda responsabilità è quella che io comunque tutti i giorni mi devo rapportare con persone tipo Gammon Mista Stock e Mad Buddy cioè parliamo di livelli altissimi e io non posso fare a meno che mettermi in discussione quindi la responsabilità più grande che io provo nei confronti di me stesso è quella di dover mantenere un certo tipo di livello mai snaturandomi ma sempre restando Nicolas Fantini detto di Green in quello che faccio in quello che dico Green hai chiuso 40 date per il tour del tuo album ma noi sappiamo che fare il rapper non è il tuo lavoro principale esatto io mi sveglio tutte le mattine qualche volta alle 5 qualche volta alle 4 e mezza qualche volta alle 6 qualche volta alle 7 e mezza lavoro per un'azienda come tante persone il rap mi toglie molto tempo anche mentale cerco di starci dentro ma non è facile tu mi hai appena detto 40 date io manco lo sapevo mi faccio un culo quadrato e per ora va così non so come non so come andranno le cose comunque non faccio il rapper di mestiere che progetti hai per il futuro guarda siamo al 22 dicembre 2013 il mio disco è uscito a maggio del 2013 io ho 13 pezzi pronti è un disco pronto progetti ho futuri non lo so io questa roba del rap me la vivo male molto male scrivo e finché ho stimoli per scrivere scrivo non so come va recepita come verrà recepita questa roba nuova che sto facendo ho robe nuove in cantiere pronte non è che sto parlando per un cazzo ho robe nuove fatte scritte e quindi sicuramente un disco nel 2014 e poi vediamo anzi ho due dischi perché ho un altro disco pronto con Warez e Crazy due fratelli di Milano e in realtà poi c'è un altro progetto parallelo per il quale non mi sono prefissato di spingere a titolo personale molto la cosa quindi comunque c'è un progetto con altri rappers che gira nella rete da un po' sicuramente porteremo delle cose in giro e c'è questo progetto invece con Warez e Crazy che sono due rappers di Milano che si chiama che si chiama come cazzo si chiama Guess Who's Coming il nome del gruppo il nome del disco Warez e Crazy c'è è pronta un EP di otto pezzi e poi c'è il mio disco pronto per i due dei potenti Green grazie per tutto il tempo che ci hai dedicato adesso finalmente ti lasciamo riposare dopo il live speriamo di vederci presto no io ringrazio te e ringrazio voi sono onorato sono anche un po' ubriachello arrivo da uno due tre due tre questo è il quarto live in tre giorni che faccio sono un po' stanco però ringrazio tutta la gente che si è comprata il disco che ascolta la mia roba che apprezza quello che faccio questa è Varese questa è BH Crew questa è Unlimited Struggle questa è Voodoo Cod ma soprattutto questo è i motherfucking green baby you know what it is bravo toma a a